Leonardo ha dipinto la Gioconda nel 1503. O nel 1506. Napoleone l'ha rubata, perciò è in Francia. Attenzione, controlliamo. Non è vero. È stato Leonardo a portarla con sé in Francia. Bravi, è così che si costruisce il sapere. È così che noi di Wikimedia Italia lo insegniamo ai nostri ragazzi, portando nelle scuole la libera enciclopedia Wikipedia. Invia un sms al 45522 o chiama da fisso. 45522. Costruiamo insieme un sapere libero.